Ieri hai passato tutta la giornata con Conte, il Presidente aveva esso un Premier abbastanza convinto della sua presenza qua. Ha parlato di questo piano del Sud, ma a te ti ha accennato qualcosa di più specifico? Penso che sia un annuncio di quello che il Governo intende fare, ma non c'è nulla di concreto comunicato a noi. Parliamo di un annuncio, mi pare che c'è una consapevolezza e un'intesa reciproca a voler collaborare in maniera stringente. Noi ci attendiamo per avere qualche convocazione significativa da parte del Governo, perché negli ultimi mesi la campagna elettorale ha fatto allontanare molto il Governo dal territorio. Si ha pure difficoltà ad avere incontri, comprendiamo la campagna elettorale, lo dico perché l'ha detto anche Conte ieri, quindi non penso di non svelare nessuna cosa difficilmente inquadrabile. Però adesso sinceramente ci auguriamo che ci possa stare una svolta nei rapporti con il Mezzogiorno e con la città di Napoli. Al di là delle opinioni politiche diverse su tantissime cose, ma ci sono una serie di tavoli su cui si possono portare a casa una serie di risultati. Vediamo che cos'è questo annunciato patto per il Sud, piano per il Sud, ma di concreto non sappiamo nulla. Ti chiedo questo anche perché oggi potrebbe passare, oggi domani non ho visto bene le agenzie, questo famoso Salva Roma che comunque sta un po' spaccando ulteriormente il Governo, con il paradosso che è la Lega che sta portando avanti la battaglia per tutti i comuni, loro sono effettivamente molto legati ai territori e quindi fanno questo. Ecco tu a riguardo che opinione ti sei fatta? De Rete, non per assumere il merito di una primigenia, ma fu il primo a alzare la voce contro quella vergogna di un ulteriore provvedimento ad hoc. Perché poi abbiamo molti parlamentari di un certo partito che da una parte hanno cercato sotto banco di salvare per l'ennesima volta una sola città e sono gli stessi che poi in modo subito hanno cercato di fare un'operazione subito smascherata perché completamente infondata da ogni punto di vista addirittura di arrivare al commissariamento della cittadinanza. Mi sembra che invece è prevalsa quella linea di correttezza che c'è all'interno del Governo e anche delle forze parlamentari, che se si deve intervenire sui comuni si deve intervenire su tutti i comuni. Quindi vediamo quale sarà il provvedimento definitivo, noi sul decreto crescita e sugli emendamenti abbiamo avuto un'interlocuzione importante, come sempre al di là del lanci siamo stati in prima linea, Napoli insomma non fa solo le battaglie per Napoli, Napoli fa le battaglie per tutti i comuni e in particolare per tutti i comuni che si trovano in maggiore difficoltà, che spesso sono anche comuni del Mezzogiorno d'Italia. Quindi diciamo il giudizio, la valutazione può essere positiva, però vediamo il provvedimento definitivo. Sul debito storico ti aspetti qualcosa? Non ci vuoi aspettare la finestra? Io sono, diciamo dalla norme per come si stanno prefigurando, noi abbiamo degli elementi che vanno incontro alle richieste che avevamo fatto, quindi valutiamo il testo definitivo che commenteremo domani e dopodomani.